Leonardo Silva Revisore Sa di polvere da sparo. Così diceva nell'aprile 1972 l'astronauta dell'Apollo 16, Charlie Duke. Era appena rientrato da una passeggiata sulla Luna, un po' di polvere lunare gli era rimasta attaccata alla tuta spaziale e questa polvere aveva invaso l'abitacolo dell'Apollo 16 e lui l'aveva inadvertidamente assaggiata ed odorata. Vorrei partire da questa testimonianza molto insolita, rarissima, per parlarvi dell'universo, in particolare di come percepiamo l'universo e di come questa percezione stia cambiando grazie alle scoperte della cosmologia moderna e dell'astronomia moderna. Ora, noi abbiamo cinque sensi a disposizione, ma se ci pensate bene utilizziamo soltanto la vista per conoscere l'universo. Questo un po' è scontato, non possiamo certo pensare di andare a toccare o assaggiare gli asteroidi, le stelle, i pianeti. Anche l'odorato e l'udito non ci aiutano certo molto per conoscere l'universo, sono limitati a piccole distanze e in ogni caso questo piccolo guscio di atmosfera che c'è intorno alla Terra. Ci resta soltanto la vista. Il fatto di riuscire a vedere l'universo è meno scontato di quanto possa sembrare. Da una parte è vero che i nostri occhi, gli occhi degli esseri umani, sono in un certo senso fatti per vedere le stelle. Sono degli organi che si sono sviluppati nel corso dell'umanità per raccogliere ed analizzare la luce che ci viene dalla stella che è più vicina a noi, il Sole. Però è anche vero che potremmo vivere, per esempio come nel racconto Nightfall di Asimov, su un pianeta con molti soli, in cui è sempre giorno e gli abitanti di quel pianeta non sono a conoscenza dell'esistenza delle stelle. Potremmo vivere su un pianeta come Venere, coperto sempre da nubi, oppure sotto la superficie ghiacciata di un pianeta, come delle ipotetiche forme di vita sul satellite Europa di Giove. Eppure quindi possiamo considerarci fortunati in un certo senso di poter godere ogni notte di questo grande spettacolo del cielo stellato ed è proprio grazie all'osservazione di questo cielo stellato che i nostri antenati hanno cominciato a conoscere l'universo, osservando a occhio nudo le stelle. E gli allineamenti dei grandi monumenti dell'antichità ci testimoniano come questo sia qualcosa che l'umanità ha fatto da sempre. Abbiamo utilizzato il sorge del tramontale delle costellazioni come un calendario, un grande calendario astronomico che ci aiutava a gestire il raccolto, la semina. E abbiamo lentamente cominciato a distinguere i pianeti dalle stelle. Abbiamo capito che la Terra è un pianeta che gira intorno al Sole. Abbiamo capito a descrivere le leggi, abbiamo imparato a descrivere le leggi che governano il movimento dei pianeti e in particolare abbiamo capito la forza di gravità che è la forza che regola praticamente l'universo sulle grandi scale. A partire dal Galileo in poi abbiamo cominciato a percepire l'universo profondo grazie ai telescopi che sono delle sorte di occhi artificiali, dei nuovi organi di senso, degli organi artificiali che ci permettono di percepire degli oggetti celesti, delle stelle, delle galassie che sarebbero altrimenti invisibili all'occhio umano. E allo stesso tempo ci siamo resi conto che esistono tanti altri colori nell'universo, dei colori che sono invisibili all'occhio umano. Potremmo anzi raccontare la storia dell'astronomia come un lungo viaggio alla scoperta dei colori che sono invisibili all'occhio umano. Abbiamo quindi, se voi prendete il rosso e il blu su questo palco, questa è luce, lo stesso tipo di luce, c'è una piccola differenza di energia dell'ordine del 30%, ma lo spettro della luce è molto molto più ampio e quindi con l'astronomia a partire dagli anni 30 del 1900 abbiamo cominciato a studiare questi colori invisibili all'occhio umano, abbiamo cominciato a costruire degli strumenti che ci permettevano di osservare nell'infrarosso, alle microonde, alle onde radio. E via via abbiamo cominciato a studiare l'universo anche alle più alte energie, ai raggi X, ai raggi gamma. Abbiamo scoperto un universo assolutamente incredibile, un universo popolato di cose strane. Ci sono delle stelle come le pulsar, che sono dense e compatte, girano intorno a se stessi in una frazione di secondo. Abbiamo scoperto i quasar, dei buchi neri e giganteschi che sputano dei getti di energia e di materia nello spazio intergalattico. Ma quanto è grande allora l'universo? Che cosa c'è là fuori? Primo Levi, un grande scrittore, che era anche uno scienziato peraltro, scrisse nel suo libro Se questo è un uomo, che la natura umana è nemica di ogni infinito. È difficile per noi concepire l'immensità del cosmo. E quello che vorrei fare è di provare a fare un piccolo esperimento per aiutarvi a visualizzare l'universo come lo possono visualizzare gli astronomi. E vorrei partire da questa immagine. Questa è una fotografia vera scattata da una sonda della NASA, la sonda Osiris, pochi mesi fa. Quello che vedete al centro di questa immagine è il nostro pianeta, è la Terra. Quel minuscolo disco che sembra perso in un universo, in uno spazio completamente vuoto, è il pianeta su cui si è svolta l'intera storia dell'umanità. In basso a destra vedete la Luna. Il diametro di quest'orbita, dell'orbita della Luna, è di circa un miliardo di metri, un miliardo di volte un metro. Vediamo chi c'è a scale più grandi. Facciamo un altro salto di un miliardo di volte. Andiamo sulla scala di un miliardo di miliardi di metri. Se prendete una sfera di questo diametro arrivate a contenere più di 10.000 stelle della nostra galassia. Sono tutte stelle della nostra galassia, quindi girano insieme al Sole, intorno a un centro comune, il centro della Via Lattea. E intorno a ognuna di queste stelle molto probabilmente ci sono dei pianeti. Lo sappiamo perché di questi pianeti ne abbiamo già osservati tantissimi. Ne conosciamo ormai quasi 4.000 pianeti intorno ad altre stelle. E queste stelle sono talmente lontane che la luce che ci arriva da queste stelle impiega decine di anni ad arrivare a noi. ed è in questo senso che l'astronomia ci offre una sorta di macchina del tempo. Ci permette di vedere l'universo come era nel passato. Facciamo un ultimo salto. Siamo a un miliardo di miliardi di miliardi di metri ed arriviamo ai confini dell'universo osservabile. Non sono i confini dell'universo, di tutto quello che esiste. Probabilmente l'universo è molto più grande, potrebbe essere infinito per quanto ne sappiamo. Ma questo è l'universo osservabile. La luce che ci arriva da queste distanze ha impiegato l'età dell'universo per arrivare a noi. Quindi noi vediamo queste regioni dello spazio come erano poco dopo il Big Bang, essenzialmente. E questa, secondo me, è una delle immagini più incredibili che siano mai state prodotte dalla scienza e dall'umanità. è una fotografia dell'universo nella sua infanzia, prima che si accendessero le stelle e prima che si formassero i primi pianeti. Ci troviamo oggi per la prima volta nella storia dell'umanità nella condizione di avere una spiegazione scientifica, convincente, precisa, dettagliata dell'origine, la struttura e l'evoluzione dell'universo. Il progresso scientifico però ci ha messo di fronte anche a qualcosa di completamente inaspettato. Abbiamo scoperto un universo oscuro, misterioso, popolato di entità sconosciute, di cui non sappiamo quasi nulla, come la materia oscura, che sembra sostenere le galassie come una sorta di impalcatura cosmica, tutte le galassie, compresa la nostra. O l'energia oscura che invece sembra spingere l'espansione dell'universo e farlo espandere sempre più velocemente. E ci siamo anche dovuti confrontare con le cosiddette singolarità. Le singolarità sono dei punti in cui la fisica nota essenzialmente impazzisce, perde significato. Sono singolarità come i buchi neri, degli oggetti talmente estremi da distorcere lo spazio e il tempo intorno a loro che sono fusi insieme in un'unica entità che si chiama spazio-tempo, secondo la teoria della relatività di Einstein. È come il Big Bang stesso, se voi riavvolgete all'indietro il nastro del tempo, arrivate a un istante in cui praticamente tutta la materia che esiste nell'universo è concentrata in un punto di densità infinita. Questa è la frontiera della cosmologia. Queste singolarità sono quelle che molti di noi, forse anche di voi, hanno imparato a conoscere grazie ai lavori del fisico inglese Stephen Hawking, che è scomparso da poco, che ha scritto un libro molto conosciuto, molto popolare, che si chiama appunto Dal Big Bang ai buchi neri. E questa è la frontiera della cosmologia moderna. In tutti gli istituti di ricerca, nel mio istituto ad Amsterdam, ma in tutti gli istituti di ricerca del mondo, stiamo cercando di capire e di conoscere meglio i misteri che sono racchiusi in questi nomi che diamo a cose che ancora non capiamo bene. C'è una cosa però in comune a tutti questi misteri, che sembrano affondare le loro radici nell'infinitamente piccolo. Questi misteri che osserviamo sull'universo a grandissima scala sembrano tutti affondare le loro radici nella cosiddetta fisica quantistica, la fisica che regola l'infinitamente piccolo, il microcosmo. Proviamo allora a vedere, a fare il percorso inverso. Abbiamo visto che cosa c'è sulle grandissime scale dell'universo, vediamo cosa c'è sulle piccolissime scale. E partendo dal metro, che è la nostra unità di riferimento, andiamo a vedere che cosa c'è su scale di un miliardesimo di metro. Dentro ciascuno di noi, dentro ciascuna cellula del nostro organismo, se guardate sulla scala di un miliardesimo di metro, troverete la molecola del DNA, per esempio. Tante molecole, in particolare la molecola del DNA, che ha uno spessore di due miliardesimi di metro. Continuiamo a scendere in dimensioni, arriviamo a un miliardesimo di miliardesimo di metro, e arriviamo a risolvere quello che c'è dentro i nuclei atomici, dentro i protoni e i neutroni che stanno dentro i nuclei atomici. La fisica che governa, che regna in questo mondo, è la fisica quantistica ed è una fisica stranissima. Vi faccio un esempio. Dentro i protoni, i protoni sono composti praticamente da tre particelle fondamentali che si chiamano quarks. Se voi prendete la massa di questi tre quarks, vi aspettereste che fosse uguale alla massa del protone. Invece la massa del protone è molto più grande della massa dei quarks. La massa dei protoni è contenuta non nella massa dei quarks, ma nell'energia che li lega insieme. Secondo l'equazione di Einstein, E uguale mc quadro, energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, si manifesta come massa. Quindi tutto quello che vedete intorno, il vostro stesso peso, deriva da questi minuscoli nodi di energia che sono contenuti in ciascun atomo del vostro organismo. Ecco, la cosmologia moderna ci invita a cercare la risposta ai grandi problemi delle grandissime scale dell'universo in questo mondo, nel mondo della fisica quantistica. A cambiare completamente lo studio di questi fenomeni e a creare una sorta di ponte tra infinitamente grande ed infinitamente piccolo, è nata pochissimo tempo fa una nuova branca dell'astronomia. Alcuni di voi ne avranno sentito parlare, si chiamano le onde gravitazionali, e queste sono importanti perché ci permettono, ci offrono delle informazioni completamente complementari a quelle che vengono portate dalla luce, a qualunque lunghezza d'onda sulla Terra. Ci permettono in particolare di ascoltare le vibrazioni dello spazio-tempo stesso prodotte da oggetti che altrimenti resterebbero per sempre nascosti nelle tenebre dell'universo profondo, come i buchi neri, per esempio. Ed è proprio per questo che il premio Nobel per la fisica è stato assegnato per questa scoperta straordinaria nel 2017. È come se, esauriti i colori dell'universo, l'umanità stesse sviluppando dei nuovi organi di senso per percepire l'universo profondo e per conoscere l'universo. È una frontiera straordinaria della conoscenza che sta nascendo proprio in questi anni. E quello che stiamo cercando di fare è di utilizzare queste onde gravitazionali per stabilire questi collegamenti tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Lo stiamo cercando di fare con i buchi neri. Abbiamo già osservato la fusione di diversi sistemi, di due buchi neri che si sono fusi in un unico grande buco nero. E questo ci sta permettendo di capire tantissimo sull'origine, l'evoluzione dei buchi neri, anche sui cosiddetti effetti quantistici della fisica quantistica che vengono intorno all'orizzonte degli eventi di questi buchi neri. Stiamo cercando la firma della materia oscura intorno a questi oggetti, intorno a questi buchi neri. E forse analizzando questa firma riusciremo anche a capire di che cosa è composta, di identificare la natura della materia oscura. Potremmo capire se l'energia oscura è collegata veramente all'energia del vuoto, del vuoto quantistico, che a differenza dal vuoto classico, che significa assenza di materia, ribolle continuamente di attività. e forse in maniera ancora più incredibile, stiamo cercando le onde gravitazionali prodotte dal Big Bang stesso. E stiamo cercando di verificare questa teoria assolutamente incredibile e vertiginosa, secondo cui tutto quello che esiste nell'universo deriva da piccolissime fluttuazioni quantistiche che erano presenti nell'universo primordiale. Arriviamo quindi alla fine di questo viaggio tra infinitamente grande ed infinitamente piccolo e vale la pena chiedersi cosa ne è di noi, di esseri umani, che ruolo giochiamo in questo grande spettacolo del cosmo. viene quasi da sentirsi piccoli, irrilevanti, insignificanti di fronte all'immensità del cosmo. Se ci pensate, da Copernico in poi siamo stati spostati. Prima eravamo... la Terra era il centro dell'universo. Poi siamo stati spostati, siamo diventati un pianeta che gira intorno al Sole, uno dei tanti pianeti che gira intorno al Sole. Poi abbiamo scoperto che eravamo uno dei tanti pianeti intorno a una delle tante stelle, intorno a una delle tante galassie. Ma il messaggio con cui vi vorrei lasciare stasera è esattamente l'opposto. Secondo me la fisica e l'astronomia moderne ci stanno dicendo in maniera chiara che siamo speciali. Siamo fatti, noi esseri umani, di una forma di materia rara nell'universo. Siamo come delle gemme incassonate in questo mare di oscurità che è l'universo. Se ci pensate siamo agglomerati di atomi che riflettono sulla loro esistenza, sull'esistenza dell'universo. Una sorta di autocoscienza, di autoconsapevolezza dell'universo che si sta generando. Ecco, vorrei che fosse questo quello che penserete quando stasera uscirete a rivedere le stelle. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.